È il primo esperimento di ufficio di orientamento diffuso. L'obiettivo è di arrivare a tutta la provincia di Vicenza partendo dal comune e lavorare con scuole medie, scuole superiori e università. L'obiettivo è che il modello possa essere replicabile, quindi il comune di Vicenza lo metterà a disposizione di tutti gli altri comuni italiani come modello da un punto di vista di attività, di servizi, affinché magari possa essere utilizzato in un altro territorio, in un'altra regione o in un altro comune. Si chiama Ulisse, il camper destinato all'orientamento itinerante che punta ad aiutare i giovani della provincia di Vicenza a trovare la propria strada nel mondo del lavoro. Allestito come un vero e proprio ufficio a quattro ruote, è stato ideato per potersi spostare sul territorio, fornendo soprattutto ai piccoli comuni quel servizio che per motivi di spazio e di bilancio non possono garantire ai propri cittadini. Ecco che il comune di Vicenza è solo il capofila dell'iniziativa che vede la fondazione emblema coordinatore del progetto che coinvolgerà i comuni di Arcugnano, Costa Bissarra, Creazzo, Nanto e Quinto Vicentino. Il tema, quello dell'orientamento, è rivolto principalmente ai giovani, ma non solo, soprattutto in questo momento di particolare crisi dell'economia. Oggi più che mai il tema dell'orientamento è centrale per evitare quel fenomeno che è la dispersione. I ragazzi non hanno tempo da perdere, devono individuare per loro, soprattutto, la strada giusta per la loro carriera. Come aiuterete concretamente? Che servizi fornirà il campo? Ci saranno delle consulenze personali, attività di coaching, webinar, selezione in carriera, insomma, tutto quello che si potrà fare con dei consulenti specializzati sul tema della psicologia e del lavoro. Una rivoluzione copernicana delle modalità del servizio. Come la montagna per Maometto, sarà il camper Ulisse ad andare dai ragazzi, ovunque si trovino. Andremo a intercettare i giovani, ma non solo i giovani, in tutti i luoghi di aggregazione, quindi certamente le piazze, le scuole, l'università, le sagre, le discoteche. Andremo a toccare tutti i ragazzi portando Ulisse con tutte le soluzioni che può garantire.